Ben trovati ai telespettatori di Millibar. Come potete vedere non siamo nel nostro consueto studio di Termoli ma ci troviamo a San Martino in Pensilis a casa della famiglia Ramieri. La scorsa settimana ci eravamo salutati dicendo e annunciando questa puntata che abbiamo chiamato Storia di Mariangela. Mariangela è una ragazza disabile che vive a San Martino in Pensilis. È una storia che purtroppo lei non ci può raccontare ma noi siamo in compagnia della mamma che ci racconterà questa storia. Da dove cominciamo? Cominciamo dal primo momento, cioè da quando questa malattia si è palesata dal momento della gravidanza e addirittura da un fatto particolare alla signora, alla mamma Concettina Aquilante, avevano pronosticato pochi giorni di vita per questa ragazza. Questa ragazza è nata invece il 3 ottobre 1987 e ha compiuto quindi da pochi giorni 30 anni. L'occasione anche se con qualche giorno di ritardo è per farle gli auguri perché una vita così lunga forse gli stessi genitori Concettina e il papà Franco Ramieri non se l'aspettavano. Loro considerano questa lunga vita chiaramente un dono. Allora Concettina cominciamo da questo. Quando hai saputo della malattia della ragazza? Dopo la nascita abbiamo saputo questa sorpresa. Durante la gravidanza non ci sono stati segnali di cose perché è stata una gravidanza normale a tutti gli effetti. Tutti i controlli necessari? Tutti i controlli di routine che si fanno durante la gravidanza e praticamente diciamo poi che dottore dobbiamo andare? Insomma anche perché mia sorella già aveva avuto la prima bambina ed era stata a Termoli. Però insomma io ho scelto Larino. C'era un dottore che era appena arrivato il primario e ne parlavano molto bene. Per cui mi sono fidata e sono andata all'arrivo. Però purtroppo al termine della gravidanza. Al termine della gravidanza insomma si è verificata questa situazione. Ecco tecnicamente la ragazza perché adesso oramai Mariangela è una donna. Ma è nata con questa malformazione che blocca, se ho ben capito, i centri nervosi. Sì, i centri nervosi perché questo virus, io ho preso un virus in gravidanza chiamato citomegalovirus. Però purtroppo a me non si è manifestato questo virus. Però ha danneggiato lei, malgrado, nostro malgrado. Insomma ha danneggiato lei. Praticamente questo virus come mi hanno spiegato, diciamo se viene preso i primi tre mesi di vita, di gestazione, avviene l'aborto spontaneo. Quello che è avvenuto a me io l'ho contratto diciamo dopo il terzo mese di gravidanza. Perché nella prima ecografia insomma la bambina stava bene, rientrava nella norma. Poi il dottore le sue visite insomma me le ha fatti, io andavo ogni mese a fare la vista. Però l'ecografia no, la faceva dal terzo, il sesto e il nono mese. Il sesto mese di gravidanza quando sono andata a fare questa visita insomma loro se ne sono accorti che c'era qualcosa che non andava. Proprio nella testa, insomma nella circonferenza della testa non rispondeva alle misure del sesto mese di gravidanza standard. E allora prima di andare via il dottore che mi fece l'ecografia ci disse, dice ragazzi aspettate prima di andare via voglio fare un consulto con il medico. Noi siamo rimasti in sala di attesa e loro si sono consultati. Poi quando lui è uscito insomma ha detto no no ragazzi forse allarme potete tornare a casa e insomma era il mese di maggio, giugno insomma. E poi c'era il, sono andati il sesto mese a fare la visita. Poi al settimo mese che sono andati, insomma era il mese delle vacanze. Il dottore ci disse, dice torni a settembre. Quando siamo tornati a settembre io sono entrata in ospedale il 4 settembre e ne sono uscite il 15 di ottobre. E insomma praticamente da lì tutti i giorni analisi quelle ecografie, misuravano la pancia, misurazione di tutto e di più. E per cui insomma loro avendo fatto l'ecografia con il loro ecografo, speriamo che ci siamo sbagliati di qualcosa. Però io sempre non conoscendo la situazione precedente diciamo loro hanno pensato di mandarci a San Giovanni Rotondo per fare una ecografia superiore. E quel giorno quando siamo andati, addirittura non ci hanno mandato manco con i mezzi dell'ospedale stesso, insomma siamo andati con il nostro mezzo. E quando siamo andati là, e infatti con noi è venuto anche un ginecologo insieme, il dottor Maselli, colgo l'occasione di salutarlo. E insomma quando hanno dato il respons dell'ecografia hanno detto no no tutto bene, l'unica cosa che insomma non va è un po' scarso il liquido amniotico. Io sono tornata, però nonostante tutto, forse loro naturalmente sapevano ciò che era la situazione. E insomma continuavano a fare analisi sempre, vabbè. Poi dopo loro hanno pensato, io finivo il tempo di gravidanza insomma il mese di, intorno al 12 di ottobre. Però loro hanno previsto la nascita un po' prima del tempo. E hanno organizzato il cesareo. E questo è il cesareo avvenuto il 3 di ottobre 1987. Quindi come dicevamo esattamente 30 anni fa. Questa è una vicenda molto lunga, poi ci arriveremo nel corso della trasmissione per gradi. Perché alla vicenda personale che riguarda la famiglia Ramieri si aggiunge poi una vicenda di burocrazia, di impicci all'italiana, di storie che poi aggiungono dolore al dolore già esistente. Quindi Concettino siamo arrivati al 3 ottobre del 1987. 1987, ecco in quella circostanza ti dissero però che la bambina sarebbe vissuta poco. No, no, poi dalla nascita insomma, perché loro hanno programmato il cesareo, perché non lo so, forse durante il parto insomma la bambina non ce la faceva, non sarebbe vissuta. E praticamente quando è nata la bambina è nata con tutte le patologie che il citomegalovirus diciamo comporta. In effetti quando è nata i medici avevano tutti il libro davanti, andavano a vedere tutta la... Perché è nata con delle petecchie vicino al viso, circonferenza cranica 27,5, milza ingrossata, fegato ingrossato insomma. Quindi c'erano... Tutte le cose insomma per questa malattia, questa infezione, infatti. E praticamente dopo, siccome avevano pensato insomma che non vivesse entro i tre giorni, hanno pensato già di battezzarla insomma e tutto quanto, anzi anche a me hanno vietato anche di vederla. Me l'hanno portata una volta sola e dopo dicevano, mo sta in terapia, mo sta così insomma, proprio per non farmi affezionare perché insomma dopo il distacco sarebbe stato difficile. Ecco però, allora, parliamo invece di questo evento felice perché pochi giorni fa, come abbiamo detto, avete festeggiato invece... I 30 anni di vita. Da tre giorni sono passati. 30 anni. 30 anni, questo anche come dire a dimostrazione per chi crede che le vie del Signore... Sono infinite. Sono infinite e che spesso anche la scienza medica poi non ha tutte le risposte. Ma infatti, diciamo, c'era il dottor Cieri, colgo l'occasione anche di salutarlo, insomma, sono andati a prendere il... come si chiama... lo zovira, cioè a prendere un farmaco per bloccare la malattia, perché sono andati a Napoli a prenderlo, insomma, perché non c'era in ospedale. Insomma, e questa terapia, diciamo, ha bloccato, cioè non lo so... Ecco, quello che voglio chiederti adesso è come sono trascorsi questi 30 anni, perché davanti, come dire, ad un evento di questo tipo, credo che tutti si trovino impreparati. Quindi sia tu con tuo marito come avete iniziato ad affrontare questa situazione e come, con quali, diciamo, difficoltà, con quali accortezze, anche, con quali gioie sono passati questi 30 anni. Ma veramente, diciamo, per noi è come se era normale la situazione, perché vedendo che stava bene così, insomma, certamente abbiamo incominciato a girare per gli ospedali, abbiamo conosciuto le città sempre per gli ospedali, siamo stati a Roma, siamo stati al Maier, a Firenze, siamo stati a Ancona, insomma, abbiamo girato, abbiamo mandato perfino la documentazione anche in Francia, per vedere, insomma, come era il quadro, che cosa si poteva fare. No, ma quello che mi interessava capire era la vita quotidiana, come si è sviluppato. Una volta che questo, purtroppo, periodo calvario che ha, come dire, accompagnato la nascita con tutto quello che ci stai raccontando, quindi il giro delle città, degli ospedali, com'è la tua vita quotidiana adesso? È normale, cioè, fa parte della vita, cioè, come si dice, insomma, per me Mariangela non ha mai smesso di essere piccola, diciamo, la imbocco, la pulisco. Cioè, io per lei sono la vita, come si dice, insomma. Viene tutto, viene spontaneo, cioè, per me Mariangela ha 30 anni, però è come se ne avesse tre giorni. Quello che tu mi raccontavi prima, insomma, quando questa trasmissione era in fase di preparazione, perché non è una trasmissione facile, come possono capire da casa i nostri telespettatori, mi parlavi di questa gioia, no? Del fatto che questi 30 anni, comunque, per te e per voi, sono stati anche 30 anni come regalati, perché nessuno vi aveva detto questa cosa. No, nessuno, anzi, ogni giorno nuove scoperte, ogni giorno nuove cose, perché, come si dice, noi viviamo sempre in sua funzione, come si dice. Abbiamo incominciato tutto l'iter della scuola, insomma. Ecco, ecco, se ce lo vuoi raccontare, come sono stati gli anni della scuola? Diciamo, si sono svolte, insomma, normalmente, soltanto che, comunque si sa, quando una bimba, insomma, non ha l'autonomia, si deve ricorrere agli ingegnanti di sostegno. Avete trovato assistenza, insomma, come vi siete trovati? Eh sì, no. La scuola ha risposto bene? No, veramente, la scuola ha risposto bene, però all'epoca il rapporto dei ingegnanti di sostegno era un ingegnante per ogni quattro bambini. Diciamo, le ore erano ridotte. Insomma, c'era la sostituzione con un assistente. Un assistente. E quindi era così. Però soltanto che l'insegnante di sostegno non sempre arriva il giorno, lo stesso, che si apre la scuola. E quindi, diciamo, si trova un po' in difficoltà tutto, no? E che cominciano a fare pressione, insomma, perché non arriva, perché così, perché con lì, insomma. E poi dopo tu vai dal direttore e cominci, perché non arriva, insomma, tutte queste cose. Comunque, diciamo, anche la scuola ha risposto bene poi alla fine. Sì, insomma, alla fine, diciamo, tutto è andato bene. Ecco, quello che invece non è andato bene, ed è anche e soprattutto il motivo per il quale facciamo questa trasmissione, sì, per raccontare la storia di Mariangela, perché la storia di Mariangela è paradigmatica di tantissime altre storie dove entra nel mezzo la burocrazia. E qui poi lo tratteremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Siamo qui perché Concettina Aquilante non è solo una mamma che si prende cura insieme al papà di questa ragazza, ma è una mamma molto coraggiosa, perché sta portando avanti una battaglia per il caregiver familiare. Chi sono i caregiver? Questa parola inglese sta ad indicare semplicemente chi si prende cura di un familiare, di una persona cara, soprattutto in casi molto complessi e complicati come questo, dove l'assistenza in pratica è richiesta 24 ore al giorno, o 365 giorni all'anno. Quello che purtroppo è il dato di fondo è che sia a livello nazionale non c'è una legge quadro di riferimento, è arenata in commissione, e nemmeno a livello regionale esiste una legge approvata. Bisogna però dare atto che ci sono in Regione Molise due proposte di legge, poi ne parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione, però voglio fare adesso un passo indietro, perché in tutta questa vicenda, in questa storia di Mariangela, che dura da 30 anni, c'è anche un aspetto legato a quello che è il sostegno, il sostegno che lo Stato dà in casi come questi. Ecco, Concettina, ci vuoi raccontare poi come è iniziato il vostro avvicinamento a quelle che sono le provvidenze statali che vi aiutano, perché non è semplice, oltre alla fatica fisica e psicologica, c'è anche una fatica economica a cui fare fronte in situazioni come questo. Ecco, allora, qual è il quadro in questo momento? Mariangela è beneficiaria di un trattamento? Eh sì, sì, Mariangela è beneficiaria dell'accompagnamento, dopo il convimento del diciottesimo anno è andata a percepire la pensione di invalidità. Poi dopo, durante l'anno che andava a scuola, diciamo, un'insegnante nel percorso del suo lavoro vicino a lei... Ecco, perché c'è stata un'ulteriore scoperta, ma molto più avanti nel tempo. Sì, sì, molto più avanti nel tempo e quindi per me Mariangela sembrava che vedesse, perché forse ha l'udito sviluppatissimo, perché nella sua totale invalidità l'udito è impeccabile, ci riconosce anche dal respiro, diciamo, per ogni persona c'è un sorriso e insomma è questo. E praticamente questo insegnante facendo dei lavori si accorge che c'era qualcosa che non andava alla vista. Mi manda a chiamare per dire se sapevo qualcosa riguardo a questo, io non sapevo niente. Poi dopo facemmo delle ricerche ed era giusto ciò che lei aveva intuito. Non lo so, perché comunque io non riesco a capire neanche come si fa a dire 100% di invalidità, diciamo, a una ragazza, a una persona che non può, non è in grado di fare niente. Cioè, è come un 100% che da una persona che si può, diciamo, in certo qual modo svingolarsi da sola, insomma, e tutto quanto. Comunque percepiamo pure quest'altro indennizzo a compagno e pensione sociale. E quindi questa è... Ecco, ora senza entrare nei dettagli perché, diciamo, contano poco perché non c'è indennizzo che tenga, insomma, davanti a situazioni di questo tipo. Adesso nella seconda parte del nostro racconto parleremo di come interviene poi la burocrazia e come spesso poi davanti anche a un dramma, a una situazione complessa, ci sia dall'altra parte la corrispondenza arida delle carte, dei documenti, dei regolamenti che viaggiano per un canale diverso che non è certamente né quello dell'umanità e non è nemmeno, come dire, un canale che riesce a tenere conto di quella che è la realtà delle cose. Perché spesso capita questo, che le carte parlano in un modo, i funzionari burocrati parlano in un altro, però poi la realtà delle persone è quella che vivono sulla propria pelle, con le proprie difficoltà e con anche i propri vuoti. Perché l'assistenza in questi casi da parte delle istituzioni è fondamentale. Perché la storia di Mariangela che noi stiamo raccontando questa sera è la sua storia, ma ci sono tantissime altre storie nascoste delle quali nessuno parla. Per questo dicevo poc'anzi che Concettina Aquilante è anche una mamma coraggiosa, perché ha rotto, come dire, un muro anche di omertà, di riservatezza, anche di paura, raccontando quella che è la sua storia, perché questo possa essere di aiuto anche ad altre persone. Adesso noi ci fermiamo un attimo, poi riprendiamo questa nostra trasmissione molto particolare. Ricordo che siamo a San Martino in Pensilis, in casa della famiglia Ramieri, per parlare della storia di Mariangela, una ragazza disabile che parla in questo momento attraverso la voce della mamma. E siamo qui anche per fare un regalo a Mariangela. Gli avevano dato tre giorni di vita, ne ha compiuti pochi giorni fa, 30 anni, a tra poco. Allora, eccoci di nuovo qui, insieme a Concettina Aquilante, la mamma di Mariangela Ramieri, una ragazza di 30 anni, disabile di San Martino in Pensilis. Stiamo raccontando la sua storia. Nella prima parte della nostra trasmissione abbiamo raccontato quello che è stato l'evento per questi genitori, che ha poi cambiato la loro vita, la gravidanza della mamma, un virus che ha provocato questa malattia, il sistema di cure dell'epoca, stiamo parlando di 30 anni fa, e anche delle analisi che purtroppo non era quello di oggi. Quindi tutta una serie di eventi che si sono affastellati e che hanno poi diagnosticato a Mariangela soltanto tre giorni di vita e invece Mariangela ha compiuto con gioia dei suoi genitori 30 anni lo scorso, 3 ottobre. Bene, adesso parliamo però in questa nostra seconda parte di quelle che sono le difficoltà che i genitori hanno incontrato non rispetto alla malattia e alla disabilità, ma di questa lotta, di questo braccio di ferro che è stato fatto con le istituzioni, con la burocrazia, con tutta una serie di problemi che purtroppo permangono, alcuni dei quali permangono ancora oggi. Allora, Concettina, una volta assodato lo Stato di Mariangela, da parte vostra è iniziata anche, come dire, una richiesta di aiuto legittima alle istituzioni. Parlavamo durante il nostro intervallo di una cosa molto semplice, di una sedia, di una carrozzina che serviva per questa ragazza. Ci vuoi raccontare come è andata? Sì, infatti il fisiatra ci prescrive la carrozzina e quando sono andata a presentare la domanda mi hanno bocciato questa richiesta perché per Mariangela questa carrozzina non era adatta perché lei non potendosi muovere da sola, diciamo, era uno spreco avere questo tipo di carrozzina. E allora mi volevano dare una sedia a rotelle normale e anche io mi sono opposta perché ho detto ma dottore, ma Mariangela in quella sedia non ci sta perché vedete io portai il busto di Mariangela e se la posiziono sulla sedia, diciamo, non si mantiene. E ha detto, ma signora, ma lei per sua figlia vuole la Ferrari. Ma veramente, ho detto, dottore, non è che la veniva a comprare qua la Ferrari. Per mia figlia la sedia a rotelle sono le gambe. E purtroppo è incominciato tutta una serie di avanti e indietro, avanti e indietro, fino a quando ci siamo riusciti, è stato possibile averlo. Ecco, oltre a questa, in questa vicenda che riguarda proprio, come dire, gli elementi di base per l'assistenza di una persona disabile, ne è intervenuta un'altra, con carte da bollo che vanno avanti e indietro ormai da anni. Abbiamo detto nella prima parte che Mariangela è titolare di una pensione di invalidità a causa della sua situazione e anche di un accompagnamento. Però c'è stato nel corso del tempo un problema burocratico che adesso ci racconterà la mamma che si è trasformato poi in una penalizzazione mensile su quello che è il trattamento riservato a Mariangela con addirittura un prelievo forzoso su quella che è la sua pensione di invalidità. Allora, Concettina, com'è andata questa vicenda? E niente, insomma, nel 2015 mi è arrivata la documentazione dell'Inps dove mi richiedevano indietro una somma di soldi. Il motivo, insomma, dicevano che io nel 2011 non avevo, ma poi non solo nel 2011, nel 2011, nel 2012 e nel 2013 non avevo fatto il RED. Ma questo io sinceramente non sapevo che si faceva questo. Comunque, sono andata dal sindacato in quanto loro mi hanno fatto la ricostituzione del tutto e hanno chiesto anche la cancellazione dell'indebito. Soltanto che questa documentazione, non lo so se non è arrivata in tempo e quant'altro, e praticamente di nuovo mi venivano le lettere dell'Inps dove mi chiedevano sempre il valio con l'importo che dovevo restituire. Io mi recavo sempre dal sindacato e loro dicevano che era a posto perché comunque era stata fatta tutta la ricostituzione. In realtà non è andata così. In realtà non è andata così perché il 10 aprile del 2017 mi viene la documentazione in quanto mi dicevano che dal mese di giugno incominciavano a riprendersi l'importo che loro volevano indietro del 2011. Vogliono indietro tutto l'intero importo. Io non riesco a capire come mai nel 2011 Mariangelo non era visabile. Ecco, è questa la domanda. Il merito della questione, credo, vada sempre rapportato alla condizione reale della quale stiamo parlando e della quale stiamo trattando. Se era vero in passato il riconoscimento di un determinato trattamento economico di una situazione del genere, non è pensabile verosimilmente che per un periodo di tempo questo trattamento possa modificarsi. Purtroppo le condizioni di Mariangelo sono le stesse, non sono cambiate. Per cui è chiaro che questa vicenda che noi ci permettiamo di segnalare alla pubblica opinione ma soprattutto a chi può intervenire, forse va riaperta, forse va compresa, forse va analizzata diversamente perché poi alla fine ciò che è accaduto è questo, come ci stava raccontando Concettina, la mamma di Mariangelo, dal trattamento economico vengono detratte a questo punto ogni mese delle somme. Sì, sì, nelle somme perché poi dopo mi sono recata personalmente all'Inps per vedere la questione com'era però loro non, cioè sempre per questa cosa che io non ho fatto questo e insomma è come se io vengo punita, cioè ma se io, se qualcosa a me, diciamo le lettere non mi sono pervenute perché se mi viene una raccomandata che mi dice una cosa del genere cioè io penso che era il mio discapito non andare e allora a me è pervenuta, diciamo, io subito mi sono recata, attivata e insomma questa attivazione dal 2016 che andiamo avanti e indietro e io non... Però sta di fatto che comunque hanno cominciato a... Sta di fatto che hanno incominciato a riprendere queste somme Io non so quanto è l'importo, non so fino a quando, io non lo so per quale motivo però, cioè a me sembra una cosa ingiusta perché scusa il diritto dell'invalido, cioè se è stato riconosciuto perché mettono queste cose del... anche perché lei è una ragazza di 30 anni con la mancanza dei centri nervosi Cioè una disabilità totale, riconosciuta al 100% insomma per un disguido da parte mia un disguido insomma, un cavillo burocratico anche perché mi è stato detto che dovevano essere fatte singolarmente la ricostituzione una cosa e la cancellazione dell'indebito ma adesso è stato fatto insomma insieme dove sta il problema? Comunque è stato fatto, cioè non lo so e poi, cioè con un diritto per quale motivo deve essere penalizzata? Cioè attenzione, ho precisato che non è una somma indebitamente percepita nel senso che è stata riconosciuta in eccesso è una somma indebitamente percepita per la mancanza, come ci sta dicendo Concettina Aquilante di un documento che è stato richiesto ma che come afferma la signora, la mamma di Mariangela questa richiesta a loro non è mai pervenuta sta di fatto che questo cavillo come lei lo ha definito a questo punto ha modificato il trattamento economico di una situazione davvero molto difficile spesso parliamo di come si può intervenire delle forme di sostegno a favore di situazioni di questo tipo poi quando si trova una forma di sostegno addirittura si inciampa su questi, non sassolini su questi massi e si fanno delle cadute rovinose come è successo in questo caso ecco Concettina però vorrei parlare adesso con te la tua battaglia in questo momento Concettina è quella per il riconoscimento della figura del caregiver familiare lo abbiamo detto nel corso della trasmissione il caregiver è colui, la persona che all'interno di una comunità familiare si prende cura di una persona cara questo è il caso tipico, quello di Mariangela c'è però su tutta questa vicenda una battaglia che dal livello nazionale al livello locale sta andando avanti da anni, da mesi affinché questa figura venga riconosciuta istituzionalmente questo vuol dire innanzitutto inserire questa figura nel percorso generale di assistenza socio-sanitaria quindi come elemento importante anche nel corso della programmazione perché è difficile fare programmazione senza conoscere effettivamente i problemi da parte di chi li vive quindi un riconoscimento ufficiale e anche un riconoscimento in termini di assistenza socio-sanitario e anche economico per queste figure che, ripeto, durante l'anno tutto l'arco dell'anno durante tutto l'arco della giornata si prendono cura di una persona cara a livello nazionale c'è una legge che è però ferma a livello regionale ci sono due proposte di legge una formulata dai consiglieri Fusco, Iorio e Sabusco l'altra formulata dalla consigliera Lattanzio anche queste però sono ferme in commissione allora Concettina l'idea del caregiver che tu ti sei fatta e la tua richiesta alle istituzioni qual è? come dicevo io dall'inizio diciamo come mamma i primi anni di vita erano di normale amministrazione fino a quando un bimbo diciamo lo rende all'autonomia però purtroppo nel caso di Mariangela l'autonomia non avviene mai quindi ha sempre bisogno di me 24 ore su 24 quindi diciamo il ruolo da mamma è finito fino a un certo punto adesso è il ruolo di caregiver familiare però purtroppo diciamo il caregiver familiare è una figura che in altri stati è stato già riconosciuto soltanto che qui in Italia sono circa 20 anni che è fermo diciamo in Parlamento senza che ne viene dato importanza perché comunque il caregiver cioè al di là delle prestazioni che una regione può riconoscere diciamo l'assistenza di un'ora per due ore però dopo altre 20 ore chi ci sta cioè un caregiver non va mai in vacanza non va mai non c'è un periodo che uno ti puoi prendere di relax cioè la nostra vita ruota tutto intorno alla persona assistita e quindi cioè non tanto quanto per me perché bene o male io ho dovuto abbattere tutte le barriere diciamo architettoniche personalmente lo fa perché abitavo una casa che si salivano le scale e così avevo un negozio insomma dove lavoravo e ho dovuto adesso perciò mi sono fatta casa insomma per stare tutti insieme per dare assistenza a lei anche perché quando viene la terapista a fare la ginnastica io devo essere presente insomma per prenderla cambiare posizione e tutto insomma cioè io non posso lasciarla da sola insomma sta sempre sotto la mia vigilanza per cui insomma è importante la figura ecco del tu hai bussato a diverse porte insomma per questa tua battaglia ma non soltanto io cioè a livello nazionale perché se viene riconosciuta cioè non lo so se è possibile soltanto a livello regionale però cioè è una situazione generale da prendere da tanti punti di vista perché a volte cioè una una lavoratrice insomma che è dipendente ha diritto a tutto legge 104 e tutto quando io lavorando da sola cioè non ho diritto né alla legge 104 né al prepensionamento cioè io non non sono è come se non esistessi è come se non esistessi cioè non c'è nessun diritto quindi quando si ammala cioè non devi lavorare per assist infatti tutte le volte che io sono stata a Roma perché lei si è operata pure alle gambe insomma siamo stati diverse volte ricoverate per problemi di salute cioè io ho dovuto fermarmi la mia attività quindi insomma che tu come attività fai la parrucchiere quindi diciamo è tutto ecco quello che dicevo poc'anzi nel senso che hai come dire fatto sentire la tua voce c'è stata una interlocuzione consideriamolo un fatto positivo all'inizio di quest'estate anche con con la regione molise ci sono dei passi anche dalle altre persone perché sono diverse persone anche perché questo è iniziato da altre famiglie diciamo perché altre famiglie insomma si trovano indietro con il caregiver insomma ecco che cosa avete chiesto sostanzialmente alle nostre istituzioni velocità praticamente diciamo di sbrigarsi da tanto tempo insomma questa volta siamo stati veramente ascoltati insomma c'è stata molta disponibilità bisogna dare atto insomma spero che tutte le cose abbiano ecco perché ricordiamolo mano a mano diciamo le cose si devono facciamo un appello utilizziamo utilizziamo anche perché non è soltanto il fatto del caregiver ci sono tante cose da per chi mariangela dipende da me 24 ore su 24 ci sta chi è che è un po' più autonomo però nello stesso tempo ha sempre bisogno se uno vuole andare a passeggio se uno se si deve muovere una persona da sola insomma come voglio dire un ragazzo che è capace di intendere di volere però ha le problematiche di scendere le scale ci vuole sempre una figura cioè non per questo uno non debba essere riconosciuto di genitore come caregiver cioè non so se non riesco a spiegare perché la la il discorso è molto chiaro cioè e il confine è molto sottile ha detto Concettina perché il genitore non deve essere riconosciuto come caregiver perché probabilmente è qui che scatta l'equivoco nel senso che paradossalmente la condizione di genitore fa passare un'idea che tutto quello che viene fatto viene fatto come genitore e questo questo è vero chiaramente però d'altro canto di fronte alle istituzioni di fronte ad una dimensione sociale di questo problema è chiaro che gli strumenti e gli interventi da parte delle istituzioni devono essere anche diversi non potendo lo Stato le istituzioni confidare sul solo fatto dell'assistenza genitoriale è necessaria questa figura nei percorsi di programmazione soprattutto di quelli che sono gli interventi socio-sanitari e anche quello di un sostegno a chi si trova in questa situazione Concettina diceva siamo molte siamo molte famiglie c'è stata questa interlocuzione allora io vorrei utilizzare anche questa trasmissione e le nostre telecamere per fare un appello alle istituzioni affinché si faccia rapidamente noi sappiamo che sia anche perché questo il fatto del cargivere va a punteggi cioè io non riesco a capire per quale motivo insomma ci sono sì i punteggi sono pure giusti per una graduatoria però dopo dipende sempre dalla somma che viene messa a disposizione ma c'è c'è un fatto proprio tecnico senza una legge che riconosca questa figura ed era qui che volevo arrivare siamo in una fase di fine legislatura sia sotto l'aspetto regionale sia sotto l'aspetto nazionale che cosa potrebbe e noi non ce lo auguriamo ma potrebbe verificarsi e che scadano sia la legislatura regionale che quella nazionale e purtroppo si ricominci da zero ma anche perché diciamo ogni anno bisogna rifare sempre la domanda sempre cioè io non capisco perché insomma con una situazione del genere io ogni anno devo ripresentare domanda e devi stare a vedere se ci rientri non ci rientri se la prima se la seconda se la terza insomma sei cioè questa è la tu parli delle domande eh sì del fondo della non autosufficienza diciamo ma non è il caregiver che è un'altra cosa ah sì 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 cioè c'è un fondo per la non autosufficienza e sarebbe strano che non ci fosse però rispetto a questo tema più generale di questa figura che poi deve essere riconosciuta per una serie di questioni anche tecniche siamo purtroppo fermi Concettino la nostra come dire chiacchierata ha toccato molti molti aspetti abbiamo parlato di quella che è stata la tua vicenda di mamma abbiamo parlato di come si sono così evoluti questi trent'anni di vita di Mariangela che ha compiuto pochi giorni fa il suo trentesimo compleanno e a noi piace fare da queste telecamere veramente un augurio di cuore il tema del caregiver non è un tema come dire limitato esiste una rete che tiene insieme tutte le persone sia a livello nazionale ma anche con come dire ramificazioni internazionali delle istanze sono state poste anche in sede europea a Bruxelles Concettino tu ci puoi confermare questa cosa che c'è una rete in tutte le regioni ci stanno pure i filmati che lo dimostrano insomma hanno diciamo esposto questo problema perché in tante altre nazioni ci sta questo tipo di di riconoscimento ci sono e invece qua da noi invece qui da noi insomma ancora non viene riconosciuto e sta fermo da vent'anni penso che non sia giusto il punto è questo cioè se c'è un operatore esterno che viene e fa un intervento rispetto a una situazione del genere chiaramente a questo operatore e giustamente vengono riconosciute tutta una serie di cose invece a voi a noi no noi dobbiamo essere volontari penso che molte persone per assistere un proprio caro ha dovuto smettere anche di lavorare però fino a quando il signore gli dà la vita ai cari però dopo non si può rimettere nel nel mondo del lavoro cioè non è semplice ritrovare un lavoro non è semplice però diciamo in questi anni per esempio io come sono 30 anni che ci sto non voglio dire manco 30 anni perché i primi 2-3 anni di vita che un genitore ci devi dedicare ed è giusto così però dopo non è più la figura da mamma è figura di un supporto o meglio non è solo la figura della mamma ma si aggiunge anche un altro lavoro io sono vitale per lei se io non ci sto lei non può non può fare niente e come me altre tantissime altre persone soltanto che molti ripeto hanno dovuto lasciare il lavoro però dopo si ritroveranno senza niente insomma e questa è la battaglia che si porta insomma avanti con solidarietà per tutti quanti insomma bene allora con questa frase finale di concettino Aquilante la mamma di Mariangela Ramieri che dice questa è una battaglia che tutti quanti dobbiamo portare avanti noi chiudiamo questa puntata molto particolare molto anche difficile lasciatemelo lasciatemelo dire di cosa abbiamo parlato abbiamo parlato dei problemi concreti di una famiglia di una ragazza che ha compiuto 30 anni che è nata con una gravissima disabilità abbiamo ripercorso tutta la strada dai primi momenti fino mano mano ad arrivare ad oggi raccontando questo percorso e raccontando non solo la vita familiare la vita domestica ma soprattutto anche quelli che sono stati i problemi rispetto al mondo esterno soprattutto alla burocrazia abbiamo ricordato il problema che questa famiglia vive a fronte di un'assistenza riconosciuta purtroppo per un cavillo burocratico che ci auguriamo possa essere risolto facilmente e a breve all'assistenza di cui beneficia Mariangela vengono detratte purtroppo delle somme abbiamo anche parlato di questa battaglia che Concettina fa nel suo ambito nel suo pezzo di strada ma che è una battaglia generale fatta da moltissime altre persone quella per il riconoscimento della figura del caregiver familiare cioè di colui che dà assistenza a queste persone all'interno di una famiglia delle persone care affinché possa essere riconosciuta proprio come figura nel complesso della filiera socio-sanitaria sia a livello di programmazione ma anche a livello di interventi concreti ci sono delle proposte di legge ce ne sono due a livello regionale ripetiamo formulata una dal consigliere Iorio Sabusco e Fusco l'altra dalla consigliera Lattanzio c'è una proposta di legge nazionale siamo però alla fine sia della legislatura regionale che di quella nazionale ci auguriamo che questi due progetti di legge possano diventare sia legge dello Stato sia legge regionale noi siamo venuti qui per raccontare davvero con mano e da vicino qui a San Martino in Pensilis a casa Ramieri per raccontare effettivamente quelle che sono le storie delle persone e in questa storia c'è come dire anche una luce c'è una felicità i 30 anni compiuti da Mariangela lo scorso 3 ottobre una ragazza a cui avevano diagnosticato pochi giorni di vita che in realtà è vissuta dando dando perché questo va detto gioia ai propri genitori che con sacrificio hanno affrontato questi anni ma che possono essere orgogliosi di quello di quello che hanno fatto e in conclusione noi facciamo gli auguri a Mariangela per questo compleanno facciamo gli auguri anche ai genitori a Concettina Aquilante e a Franco Ramieri per il loro coraggio per la loro dedizione e per la loro testimonianza grazie Concettina grazie a voi e a tutti quanti a voi a casa un saluto da me e da Alessandro Nardella che come al solito è stato con me nella parte tecnica un saluto a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti